A poco meno di un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico sono ancora molti gli interrogativi da parte di studenti e genitori in tema di orari, modalità e protocolli. Una seconda parte di anno accademico, quello concluso lo scorso giugno, per il quale quattro mesi trascorsi tra lockdown, lezioni online e attività da remoto hanno scombussolato abitudini familiari e dinamiche di apprendimento. Il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Fabio Molinari è ottimista circa una risoluzione degli ultimi nodi da sciogliere, a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Dirigente, ieri la lettera da parte di un gruppo di genitori dei bambini appartenenti alla scuola dell'infanzia, ieri pomeriggio la risposta da parte dell'assessore alla cultura e all'istruzione Marcella Fratta che purtroppo diceva non vi sono certezze. Cosa possiamo dire oggi a distanza di 24 ore? Io non ho visto nulla di questo perché è una questione che ha riguardato l'amministrazione comunale. Quello che posso dire è che pare la situazione stia evolvendo in modo positivo perché stando a quanto contenuto nelle linee guida emanate dalla conferenza Stato-Regioni pare che sia sufficiente, parlo della scuola dell'infanzia dove si crea il maggiore problema, pare sia sufficiente che sia assicurato uno spazio di vita o di movimento insomma di un metro e ottanta per ogni bambino della scuola dell'infanzia. Questo vorrebbe dire che il concetto di gruppo viene superato e si torna al concetto di sezione. In questo modo non si porrebbe più il problema della riduzione di orario perché si potrebbe rientrare a fare l'orario completo. In ogni caso stiamo attendendo la quantificazione dell'organico aggiuntivo determinato dalla conversione in legge del decreto rilancio per cui avremo anche questo organico aggiuntivo. E da parte dello stesso gruppo di genitori della scuola dell'infanzia, firmatari della lettera inviata ieri a sindaco e giunta del capoluogo, nella quale si chiede un supporto concreto e così essenziale alle scuole private, riassumibile in circa l'1% del bilancio del comune, giunge oggi una proposta. Ringraziamo ancora una volta l'assessore Fratta, ci dispiace veramente che sia toccato ancora lei doverci dare questa notizia purtroppo brutta da parte di tutta la giunta. Sto pensando anche particolarmente al BIM che con il suo ricchissimo budget probabilmente quest'anno si sta ritrovando senza tutti gli eventi che è solito finanziare normalmente. Magari potrebbe essere un aiuto inaspettato. E intanto è programmata per i prossimi giorni la riunione tra Comitato Tecnico Scientifico e Ministero dell'Istruzione, dopo la quale verranno comunicate le ultime linee guida per la riapertura delle scuole. Altri rebus sono quelli verso i quali guarda l'avvio del nuovo anno scolastico, a cominciare dai 2 milioni 500 mila banchi monoposto in consegna in tutta Italia. Per quanto riguarda la questione dei banchi, io ho semplicemente vidimato e validato quelle che sono state le richieste presentate dai dirigenti scolastici che hanno scelto se far acquistare al Ministero questi banchi mobili oppure i banchi classici. L'asta si è conclusa, la procedura si è conclusa, mi risulta sia stata assegnata a un gruppo di 11 aziende che, secondo quanto ha dichiarato il commissario ad hoc, dovrebbero arrivare già da settembre. Sono fiducioso che nella scuola si creeranno le condizioni migliori per un avvio, fermo restando che i ragazzi e i bambini e soprattutto i genitori adottino i comportamenti necessari prima che il bambino o il ragazzo entri a scuola e anche quando il ragazzo sarà uscito dalla scuola. Se un genitore non prova la febbre al figlio prima di mandarlo a scuola o prova la febbre e comunque anche in presenza di un paio di linee di febbre il genitore lo manda a scuola, questo crea problemi poi all'interno dell'istituzione scolastica.